5 sinistra 3 vai in destra 3 meno gira 30 per sinistra 3 in uscita stringe un po' 100 sinistra 4 30 metri a rail in due tempi per sinistra 4 gira 20 in destra 4 lunga chiude alla fine 4 lunga chiude 100 a roll stop destra e sinistra 4 e subito a sinistra 3 dentro occhio brutta 70 in destra piena 50 all'albero destra e sinistra piena occhio 200 sconnessi in fondo stacca sinistra 4 taglia un po' e sporca in destra piena 100 in destra 5 meno 70 per vai sinistra 3 tieni 3 tieni sporca subito destra 3 meno e sinistra 4 vai 30 al bivio destra 2 gira c'è al vuoto 2 gira 20 20 in sinistra 3 meno 20 taglia destra 3 e attenzione sinistra 3 sconnessi in due tempi tieni occhio brutta chiude 2 chiude 2 chiude 2 bene 200 vai shigan destra 4 20 sconnessi in sinistra 3 occhio tieni spio da destra 50 connessi dall'albero destra 5 credici 50 in destra 3 meno meno lunga 3 meno meno lunga e subito sinistra 3 dentro 100 3 dentro 100 attenzione sinistra 3 non tagliare dopo vai ancora vai ancora bene fermo 200 tieni destra vai tranquillo destra 3 meno in fondo ancora no ancora no ancora no al muretto destra 4 dentro per sinistra 4 spiora sinistra 4 destra 4 ripeto spiora sinistra 4 destra 4 in sinistra 2 gira e destra 3 per sinistra 4 spiora destra sinistra 3 gira attenzione tieni sinistra tieni sinistra dai dai gas sinistra 3 e destra 3 chiude e 3 vai e destra 3 chiude 100 taglia destra e subito sinistra 2 gira taglia tutto dentro tutto 2 gira per destra e sinistra 3 non tagliare vai va accelera sinistra 3 non tagliare 20 sconnessi stacca di sinistra 2 meno meno vai dentro ancora no va bene e destra 4 scivola e sporca apri 200 sciganna sinistra vai vai ancora vai ancora vai ancora ancora no ancora no attenzione sinistra 3 meno gira vai vai 3 meno gira dentro bravo a rail destra 2 meno meno gira in sinistra 3 fiede a D20 in destra 4 in sinistra 4 meno scivola in albili destra 3 occhio in sinistra 4 vai 20 e 4 vai 20 in schiara destra in sinistra 2 chiude chiude per destra 2 lunga 30 schiara destra sinistra 2 lunga occhio 30 vai schiara destra è piena in sinistra 4 calmo a destra 4 20 a rail destra 3 chiude ripeto a rail in fondo 3 chiude ancora no sconnesso sinistra 4 ripeto sconnesso sinistra 4 stai dentro poi la butti ma è cella non è marce 4 48 quanto avevamo fatto prima